Si è reso necessario il trasferimento in areaambulanza presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila per il medico in pensione 68enne di origine sul Monese, protagonista dell'incidente stradale di questa mattina sulla strada statale 17 nei pressi del cimitero di Pettorano sul Gizio. I sanitari del nosocomio Peligno hanno diagnosticato un trauma cranico policontusivo tanto da rendere necessaria la terapia specifica del reparto di neurochirurgia del San San Salvatore. I medici aquilani lo terranno sotto osservazione almeno per un mese stando alla prognosi provvisoria. L'incidente si è verificato intorno alle 12.30 in un tratto pericoloso della statale. A investire medico che si stava allenando in bicicletta sarebbe stata una Fiat 500. Entrambi viaggiavano in direzione Roccaraso come accertato la polizia stradale di Castel di Sangro che ha effettuato i rilievi del caso. L'impatto sarebbe avvenuto mentre la auto si apprestava a svoltare verso il cimitero. La dinamica è tutta da ricostruire tant'è che toccherà alla polizia accertare eventuali responsabilità. La statale continua ad essere teatro di incidenti e il secondo che si verifica nel giro di 48 ore dopo il caso della donna investita sotto casa.